Devo dire, prima di chiacchierare un po' con Claudio, due cose che lui ha saputo solamente ieri, ma che credo sia interessante conoscere. Innanzitutto che la prima edizione di 5.000 coppie è già esaurita, è già andata completamente. E' qui che rifacciamo la Lovettina! Ma il disputo della casa editrice ne ha già chiesto 3.000. E in realtà gli altri 5.000 stavano disponibili, sono già praticamente disponibili. Quindi il traguardo della 10.000 coppia, che chi conosce il mercato culturale italiano lo sa, sono numeri di altissimo livello, quindi evidentemente l'interesse c'è. La seconda cosa che volevo dire è che l'esperienza di Claudio è importante. E' stato invitato presso l'Accademia di Santo Giugno di Brescia per un seminario. L'Accademia di Santo Giugno di Brescia prepara i professori della comunicazione. Come chiesi stati, no? Come anche una persona che ha altro interesse a altre modalità comunica poi in che misura le proprie attività e quindi complimenti. Allora, io comincerei dal fondo. Questo è il primo libro, probabilmente non l'ultimo. è la prima presentazione e allora tanto bello per il ghiaccio farei subito un applauso a Claudio. Grazie. Grazie.